La riconferma di Emmanuel Macron o la vittoria della sfidante Marine Le Pen passano anche da un elemento che può essere sia un alleato sia un pericoloso nemico, è l'astensionismo che oggi potrebbe essere molto alto un rischio che in Francia si argina con il voto per delega. A priori è possibile votare per procura, spiega questo elettore, io per esempio ho votato anche per mia figlia e aggiunge la procedura è molto semplice, si fa via internet e consente a tutti di esprimere la propria scelta. Anche io voterò per procura per una mia amica, dice questa signora, lei non poteva votare e lo farò io al posto suo. Salvo si vada alla conta scheda a scheda, il risultato dovrebbe arrivare presto con uno scrutinio che si preannuncia molto veloce, un evento che per la Francia e per tutta l'Europa è di grande importanza. Tanta gente è arrivata fino a questo momento, qui così come nei 70 mila seggi di tutta la Francia, un impegno grande che coinvolge 280 mila persone, scrutatori, presidenti di seggio, buona parte dei quali sono volontari. C'è un primo dato sull'affluenza a mezzogiorno, un punto in più rispetto al primo turno, quindi segno che l'interesse sembra essere tornato tra gli elettori francesi e c'è un altro dato, le procure di cui parlava Stefano Fumagalli, 700 mila soltanto negli ultimi giorni. Buongiorno a mezzogiorno a mezzogiorno a mezzogiorno. Grazie.